Amici e amiche carissime, benvenuti, bentornati, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Fondersi nella Divina Volontà, ci salutiamo come sempre nel Signore salutando la Madonna con un bel Ave Maria e poi ci disponiamo a entrare nel vivo di questa nuova puntata, di questo nuovo viaggio nel grande mistero della Divina Volontà e vi confesso insomma che ogni giorno che passa ci sono delle sorprese inedite e inaudite, poco tempo fa insomma durante la lettura quotidiana ho trovato un altro passo del trentesimo volume che è veramente qualcosa di impressionante, il trentesimo volume ha dei passi veramente sconcertanti, prima di arrivare a meditare ci passerà un pochino di tempo insomma ma veramente lasciano senza parole, così come lascia senza parole questo grande mistero che è e anche al termine di questo ciclo di Catechesi resterà un mistero perché è un'operazione veramente impressionante, totalmente divina, cioè il fondersi nella Divina Volontà fuoriera tuttavia di effetti davvero belli, anzi strabilianti nella nostra anima. Io invito sempre a farsi attenti a quelli che se mi si consente io chiamo gli effetti ordinari del vivere nella Divina Volontà che sono quelli percepibili e riscontrabili da chiunque, soprattutto una grandissima pace interiore, una grandissima gioia, un rapporto intimo con il Signore, una preghiera viva, rinnovata e queste sono le prime cose che compaiono, compaiono anche penso insomma nell'anima di chi semplicemente desidera, si accosta a questo mondo, vuole conoscerlo perché la Divina Volontà è un po' come il Sole, basta appena appena mettersi un pochino sotto i suoi raggi, anche timidamente anche per qualche minuto, certamente non si diventerà bronzatissimi come gli aspiranti lucertoli che ci vivono distesi in perpetuo, però gli effetti si sentono. Bene, non vorrei dilungarmi troppo anche se è sempre bene ambientare un po' le nostre conversazioni, per creare un po' un clima. Passiamo, siamo al tredicesimo volume, anzi al quattordicesimo, e leggiamo il primo breve brano dal 6 settembre del 1921. Stavo fondendomi tutta nel santo volere del mio dolce Gesù e gli dicevo, amore mio, entro nel tuo volere, e qui trovo tutti i pensieri della tua mente e tutti quelli delle creature. Ed io faccio corona con i miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, e poi li unisco insieme, facendone uno solo per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della stessa tua intelligenza. E mentre ciò dicevo, il mio Gesù si è mosso nel mio interno ed alzandosi mi ha detto, figlia inseparabile della mia volontà, come sono contento nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà. Ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. Allora, questo brano è brevissimo, ma nella sua brevità è molto importante perché, come vedremo andando avanti con questi brani, una delle risposte che è importante avere è questa. Bene Donardo, che bello quello dice Luisa, fondersi nella mia volontà. Voglio fondermi nella mia volontà, ma come si fa? Allora, questo si può fare in una vera, molto molto semplice, d'accordo, come gli atti attuali. Divina volontà mi fondo e mi sperdo in te. Punto. E questo è molto utile, raccomandabile, specialmente quando dobbiamo fare qualcosa di importante e di delicato. Per esempio, raccomando, non c'è un colloquio importante, deve parlare di una cosa importante con una persona, bisogna ricordarsi di fare questa cosa. Perché se ci si fonde nella divina volontà, e certamente poi non ci sono ostacoli, quindi tutte queste cose vanno sempre vissute, mi raccomando, con grano salis, possiamo sperare, è lecito sperare, utilizziamo questo termine, che quando io parlo, veramente parli Gesù in me. Adesso non, ripeto, non si legittimino mai atteggiamenti da pazzerielli, mezzi esaltati, insomma fanatici che queste cose non hanno niente a che vedere con la santità e con la vita divina, no? Ah, mi sono fuso, quindi ha parlato Gesù in me, cioè quegli atteggiamenti un pochino pazzoidi, no? Quindi che chiunque li vede dice questo è fuori di testa, insomma questo è un mezzo fanatico esaltato. Quindi fuori di queste sciocchezze, quindi di queste evidenti edulcorazioni, alterazioni, esagerazioni, però se io questa cosa la faccio, rimanendo umile, quindi senza andarla a dire in giro, o esserne così troppo convinto che penso che quando ho aperto il bocca ho detto il Vangelo, ecco, quindi con tutti questi distingui, però ripeto, è licito sperare, sulla base delle promesse del Signore, che quello che ho detto è benedetto da Lui, forse è molto ispirato da Lui, forse ha parlato Lui in me, e dico questo forse sempre perché dobbiamo avere il beneficio dell'inventario e rimanere sempre molto cauti e sempre molto umili dinanzi all'altissimo, almeno provarci anche se l'umiltà è una cosa molto molto difficile. Quindi questo è un modo semplicissimo, poi c'è l'atto di fusione, che è l'atto esteso, d'accordo, dove lì, il fondo mio Gesù, la mia intelligenza, la tua intelligenza, la mia volontà, la tua volontà, il mio palpito e il mio respiro, nel tuo palpito e il tuo respiro, la circolazione del mio sangue, le mani, i piedi, eccetera, eccetera, no? Poi però ci sono delle operazioni come questa che Luisa ha fatto, che dobbiamo impararle, dobbiamo imparare a farle, perché non ci sono con naturali, sono operazioni spirituali, quindi queste non sono preghiere nuove, questo è una... dobbiamo capire per quanto possibile che cosa fare, che cosa succede, che cos'è il fondersi con Gesù, come si fa e quali effetti produce. Allora, qui dice, stavo fondendomi tutta nel santo volere del mio dolce Gesù e gli dicevo, quindi qui Luisa sta spiegando come in quel momento si stava fondendo nel volere Gesù, perché stavo fondendomi e gli dicevo, quindi quello che dice è il suo atto di fusione fatto in quel momento e ce l'andiamo a rileggere, a studiare con attenzione. Allora, amore mio, entro nel tuo volere, la prima cosa, entrare nella divina volontà, che è sempre a nostra disposizione, che ci circonda, lo sappiamo che sta in giro dappertutto. In chi sta vedendo la diretta video, che ho tante le cose che vede qui intorno alle mie spalle, i tappeti, i mobili, il pavimento, eccetera, eccetera, mi pare che l'ho già visto in ultima puntata o forse qualche meditazione, la divina volontà qui in giro sta dappertutto, d'accordo, perché dovunque c'è un atomo, d'accordo, la divina volontà c'è perché è il principio di sussistenza di quell'atomo, ok? Ecco, si tratta semplicemente, noi ne prendiamo coscienza e ci, e lo facciamo nostro, ecco l'atto della creatura, no? In particolare, in questa fusione, dopo andare a parlare Luisa, allora, qui trovo tutti i pensieri della tua mente, perché la mente della Santissima Umanità di Gesù ha pensato, e ha pensato come pensiamo noi, in questo mondo, e anche però tutti quelli delle creature, cioè, entrando nella divina volontà, io trovo immediatamente, cioè, nella divina volontà trovo tutto, quindi adesso in questo momento mi fisso su questo punto, voglio andare a trovare i pensieri della mente di Gesù e quelli delle creature, perché? Ed io faccio corona con i miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, attenzione, eh? Quindi faccio corona con i miei e con quelli di tutti i miei fratelli, cioè io li prendo tutti quanti i pensieri di tutti perché li trovo nella divina volontà, li faccio i miei, li unisco i miei e faccio corona ai tuoi, intorno ai tuoi, perché? E poi li unisco insieme, quali? Quelli di Gesù e quelli di tutte quante le creature presenti, passate e future, io compreso. E a che cosa serve tutto questo? Per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della tua stessa intelligenza. Attenzione, eh? Allora, pass step indietro, perché questo processo ha un prequel, diciamo così, quindi ha un preconcetto, diciamo così, da ricordare, che nella sua vita terrena Gesù ha fatto questo lavoro, cioè ogni suo pensiero, ogni suo pensiero non era solo il suo personale pensiero, ma per il fatto stesso di essere espresso come pensiero, andava a raggiungere, a causa della sua natura divina e della sua unione sostanziale, personale, naturale con la divina volontà, andava a raggiungere i pensieri di tutti, quindi quel pensiero buono rifaceva, secondo dopo secondo, microsecondo dopo secondo, tutti i pensieri balordi, cattivi, impuri, brutti, che tutti gli uomini avrebbero fatto, in modo che ogni pensiero umano avesse, diciamo così, capite, cioè a fianco un altro pensiero, quello di Gesù, che si metteva a fianco di quell'umano e lo rovesciava, lo riparava perché il padre in quella creatura umana che stava usando malamente il pensiero, che stava pensando malamente, avesse una riparazione e un ricambio di amore perfetto, cioè un pensiero perfetto, come avrebbe dovuto farla quella persona se avesse usato bene nella divina volontà l'intelligenza che tu gli ha dato per pensare. Spero di essere stato chiaro, ma questo è. Allora, questo Gesù l'ha fatto nella sua vita terrena, che cosa fa chi vive nella divina volontà? Rifà la stessa cosa. Evidentemente nella divina volontà io ci entro e quindi trovo i pensieri di tutti, trovo tutti quelli che Gesù ha fatto nella natura umana creata durante la sua vita sulla terra. Li unisco perché per ritare adesso, in questo momento, perché io sto vivendo in questo preciso momento storico, adesso Gesù sulla terra di fatto c'è stato duemila anni fa, adesso sicuramente, almeno per quanto riguarda la nostra dimensione terrena temporale, poi non sappiamo che cosa succede all'altra parte, insomma, dove si entra nell'eternità. Ma per quanto riguarda qui su pianeta terra, noi siamo certi che attualmente il 5 novembre del 2019, se vado in Palestina Gesù non lo trovo, non sta lì. Allora, Gesù che cosa gli risponde? Tutto contento. figlia inseparabile della mia volontà, come sono contento nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità. Noi non abbiamo la possibilità, neanche la consapevolezza, ma possiamo in ogni momento fare nostra questa cosa. Nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà. Ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. Gesù è felice e ricambia tutto questo qui con dei grandissimi atti di amore, con dei mistici baci dati ai pensieri, alle parole e al palpito nel mio sé. Che effetto produrrà dentro la nostra anima ricevere un bacio ai nostri pensieri da parte di Gesù? Boh! Sicuramente un bel effetto. E non è detto che di questa cosa non ne dobbiamo essere consapevoli, e neanche è detto che degli effetti che questa cosa produce ne siamo consapevoli. Così come non siamo per esempio consapevoli, non andiamo sempre in estasi e in levitazione, forse qualche volta sì, ma non sempre quando riceviamo la Santa Comunione, e ne sempre il nostro potere durante il ringraziamento, che ovviamente tutti i figli della Divina Volontà non solo che fanno, ma fanno bene, altrimenti non sono figli della Divina Volontà, qui rimando alla meditazione di questa mattina, che la vita sacramentale, specialmente eucaristica, Gesù la affida alle anime che vivono nel Divino Volere, per cui il loro rapporto con l'eucaristia è assolutamente esemplare. E quindi, ecco, quindi però non sempre durante il ringraziamento ci sentiamo trasportati in chissà quali grandi cose, spesso sì. Ecco, quali effetti produrrà? Sicuramente effetti belli. Ripeto, chiunque si accosta a questo mondo avrà i più grandi riscontri, ogni tanto mi arrivano le mail, dicono, ma se non ti sto facendo così, ma secondo te sto vivendo la Divina Volontà, se ti dico, figlio, che te so, non ti vedo manco in faccia, insomma, perché poi la comunicazione tramite email, per esempio, un'ottima valutazione è guardare negli occhi una persona, perché una persona che vive nella Divina Volontà, a mio avviso si vede benissimo dallo riguardo, sguardo veicola tante belle cose o tante brutte cose. Ecco, ma il riscontro principale ce l'abbiamo in noi, perché ci sono degli effetti divini ordinarissimi, quindi non si tratta di cominciare a fare, io quando sento tante cose, dice, mi ha parlato il Signore nel cuore, mi è venuta questa ispirazione, oppure ho fatto il sogno X, il sogno Y, il sogno Z, adesso non voglio sembrare un po' sprezzante, quindi sarcastico, non possono succedere tante belle cose, per carità, ma quante volte Gesù insiste che la vita terrena della Madonna era... non si vedeva niente, non si vedeva niente, ma chi la incontrava vedeva tutto, ma da che cosa lo vedeva? Dal suo portamento, dal suo sguardo, dal suo modo di fare, dal suo modo di essere. Eh, noi lo sappiamo, per esempio, come siamo sempre stati, se siamo sinceri con noi stessi, oh mi raccomando, cioè, qui chiaramente la conoscenza di noi stessi, qui, mie catechesi molto molto antiche, insomma, conosci te stesso, che sono io per poter amare, come dire, è un prerequisito, no? Con una buona capacità di introspezione, di onestà con noi stessi, d'accordo? Perché quando siamo stati, come dice San Paolo, peccatori, sotto vari punti di vista, lo sappiamo, cioè, io lo so se oggi sono più superbo, meno superbo o lo stesso superbo di due anni fa, lo so, d'accordo? Ecco, la verità non è né buttarsi addosso più fango di quello che uno è, e nemmeno darsi meriti o ali che uno non ha, ecco, però, dal punto di vista oggettivo, io credo che forse questa è anche una cosa che anche questa viene da vivere nel di involere, cioè, io lo so, quello là che mi furla per la testa, se guardando il prossimo lo disprezzo nel cuore, penso che questo è un imbecilia che non capisce niente, insomma, che io invece so tutto, capisco tutto io, eccetera, eccetera, io questo lo so, per cui, se magari dieci anni fa, questo era il mio Vangelo quotidiano, la mattina e la sera stavo sempre a fare così, e ora ci penso proprio, d'accordo? Cioè, non è che so, cioè, sai, ho fatto tante ascesi, quindi, e so, sono riuscito a... non basta manco per la testa, capito? Cioè, l'ho fatto per una vita, ma adesso, quando vedo una persona, vedo un essere umano, comincio a sapere meglio, peggio, capisce niente, non capisce niente, è un'anima, è un fratello, una sorella, un figlio di Dio, è oggetto di un amore infinito, basta, devi dare l'artezione, non serve altro. Se io ero una persona irrascibile, che non si poteva sfiorare, e subito diventavo una belva, ma se non lo faccio più, non lo faccio più, se non lo faccio più, se ero un lussurioso, e sono diventato una persona pura, ero un lussurioso, e sono diventato una persona pura, cioè, poi, per carità, questo non vuol dire che non si abbiano altri cento miliardi di imperfezioni e di difetti, che con la luce del Signore ogni giorno ne conosciamo qualcuno nuovo, e quindi, alle confessioni ci abbiamo sempre di che vergognarci, di che umiliarci, eccetera, eccetera, perché non si finisce mai di lavorare nel campo della nostra anima. Però alcune cose sono oggettive, cioè, se uno l'ha smesso di mangiarsi vivo il prossimo, non è umiltà dire, ah, io sono un mangiatore del prossimo, se dire, io sono stato un mangiatore del prossimo, e non ho smesso di esserlo per mio merito, ma ho smesso di esserlo per la forza e la potenza della vita e della mia volontà che piano piano comincia a nascere nella mia anima e spezza, sbandisce e scaccia tutto ciò che è adesso contrario, perché questo è vivere nella divina volontà. Allora, passiamo al 16 settembre 1921, quanto tempo è passato? Troppo! Va bene, e sempre il volume 14esimo, 16 settembre 1921. Anche questo brano non è lunghissimo, anzi, però, come sempre, vedremo che non sempre lunghezza equivale a sostanza. Dopo essendo ritornato di nuovo, siccome io stavo tutta fondendomi nel volere divino, mi ha detto, figlia carissima del mio volere, io sto con ansia aspettando queste tue fusioni nella mia volontà. Tu devi sapere che come io pensavo nella mia volontà, così venivo informando i tuoi pensieri nella mia volontà, preparandone il posto. Come operavo, informavo le tue opere nel mio volere, e così tutto il resto. Ora, ciò che facevo non lo facevo per me, che non ne avevo bisogno, ma per te. Perciò ti aspetto nella mia volontà che venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità, e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue. Allora sono contento e ne ricevo completa gloria quando ti vedo fare ciò che feci io. Allora, qui non contempliamo un atto di fusione, ecco, ma qui contempliamo Gesù che ci spiega l'importanza dell'atto di fusione, io sto aspettando queste tue fusioni nella mia volontà, perché? Perché fare questa cosa significa collegarsi, fare proprio, questo l'abbiamo già visto nel bravo precedente, ma nemmeno abbastanza veloci, quello che ha fatto Gesù nella vita terrena. Quando io pensavo, siccome sta pensando il figlio di Dio fatto uomo, quindi ogni pensiero di Gesù per natura, capite? Cioè, Gesù non doveva dire viene divina volontà a pensare in me, perché Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, capite? Quindi ce l'ha questa cosa. Quindi un pensiero di Gesù raggiungeva tutti quanti i pensieri e informavo i tuoi pensieri nella mia volontà preparandone il posto. Informavo le tue opere nel mio volere. Attenzione, qui non è informare, qui non vuol dire dare un'informazione. Questo è un termine, diciamo, possiamo dire filosofico che Gesù usa. Cioè, qui informare, in filosofia, significa dare la forma. Cioè, un pensiero di Gesù era capace di dare forma buona, quindi, purché sia fatto proprio, ai pensieri di tutti gli uomini presenti, passati e futuri. Uno solo. Così ogni opera che Gesù faceva è il principio e il fondamento della bontà di tutte quante le opere buone fatte degli uomini. Tutto quello che lui ha pensato, ha detto e ha fatto, lo ha fatto tutto per noi, quindi è tutto a nostra disposizione. Quindi che cosa fa Gesù? Cosa dice? Ti aspetto nella mia volontà perché tu venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue, cioè unisci i tuoi atti umani ai miei divini e li divinizzi. D'accordo? E' chiaro che gli atti divinizabili sono soltanto gli atti buoni meglio ancora se atti di perfezione, atti eroici buoni, leciti o indifferenti. E' chiaro che se io dico una parolaccia questa parola non è né informata dalle parole di Gesù e né andrà a informare a sua volta le parole di Gesù. Giusto, no? Ecco, quindi ricordiamo sempre che tutto quanto questo discorso presuppone già come dire un cammino di santità avviato. Non dimentichiamo mai che quando Gesù parla della vita di una volontà la definisce la santità delle santità. Io tante volte perdonatemi se faccio qualche piccola digressione però questo è come dire c'è anche un ciclo di catechesi, no? Allora per entrare bene in questo mondo ci vogliono alcuni step. Il primo è la decisione di percorrere il cammino verso la santità. Se vogliamo parlarne ad opere la Filotea di San Francesco di Salo. Splendita opera specialmente per la stragrande maggioranza delle persone che stanno seguendo questo cammino che sono laici e laiche San Francesco di Salo nella Filotea dà un manuale per raggiungere la santità parla di tutte le virtute il combattimento dei vizi e spiega per esempio come per partire nel cammino verso la santità prima di intraprenderlo bisogna fare la confessione in generale. Ebbene perché tu non puoi intraprendere bene il percorso verso la santità se non hai fatto scendere il sangue di Gesù sono tutti gli strafalcioni e disastri che hai combinato nella tua vita non ti li puoi portare dietro. Confessione generale che è un gesto ascetico fondamentale da curare e da preparare con la massima attenzione possibile ecco e che è già il punto di arrivo di un cammino di conversione serio dopodiché comincia il cammino sulla santità vizi e virtù questo rimarrà in perpetuo cioè il santo è chi vive secondo virtù e arriva al grado eroico il peccatore è chi vive secondo i vizi lontano dalla virtù dall'osservanza dei comandamenti della legge di Dio eccetera non è che queste cose non è che cambiano queste cose rimangono sempre le stesse ora nel 1600 subito dopo tra l'altro la relazione di San Francesco di San San Luigi Monforto ha detto c'è un segreto se tu vuoi diventare facilmente santo quindi speditamente santo dolcemente santo quindi trovare una via privilegiata per camminare questo per camminare verso la santità per percorrere questo cammino ti insegno un segreto totus tuus fatti tutto della Madonna perché la Madonna eserciti la sua azione benefica e santifica nei tuoi confronti tu possa approfittare di tutte le azioni che ha compiuto in vita e della purezza dell'intenzione con cui ha compiuto e farle tue e averla come modello perfetto e perfettissimo di santità quindi per giungere ad una grandissima santità ma già per fare la consagrazione totus tuus sapete quanta gente mi dice ma eh padre io voglio fare la consagrazione totus tuus io gli rispondo sempre e dico guarda noi siamo liberi ci abbiamo tutto quello che ti pare d'accordo perché la libertà che il Signore ci ha dato non è coartabile dal prossimo però gli dico state attento state attenta cioè questo non è un gioco cioè la consagrazione totus tuus non è consagrarsi al cuore immacolato di Maria cosa importantissima che la Madonna ha chiesto a Fatima ma è come dire cercare affidarsi ad un mezzo privilegiato per raggiungere quella santità che io già ho scelto di ottenere ricordo delle volte c'è delle mie ma padre voglio dire la mia volontà però ogni tanto qualche bugiro la devo dire ma sarà compatibile o non sarà compatibile ma che discorso è questo qui cioè chi fa questo discorso qui cioè con tutto quanto il rispetto non ha capito un'acca come dice Gesù negli scritti Gesù dice un'acca noi diciamo non ha capito niente d'accordo ok allora e che cos'è la vita nella divina volontà è la santità delle santità d'accordo cioè è un portare tutto quanto come dire alla perfezione assoluta perché rifare la vita di Gesù e di Maria e al tempo stesso però duplicare anche come dire spiritualmente fenomenologicamente fenomenologicamente per certi aspetti la vita che Gesù e Maria hanno fatto sulla terra divinizzando i nostri atti quindi non soltanto atti buoni virtuosi perfetti o se vogliamo anche eroici ma divini e riparazioni universali cioè sapete tutti i santi hanno fatto le penitenze lo sappiamo questo qui no? perché i santi facevano le grandi penitenze anche quelle che colpiscono le persone che si mettono paura quando leggono i libri dei santi quello portava il cilizio quell'altro faceva la disciplina ma che so queste cose destra e sinistra eccetera eccetera perché i santi facevano quelle cose perché erano scemi o perché volevano soffrire la stragrande maggioranza dei santi che hanno fatto queste cose non neanche fatte per sé e per espiare i peccati propri ma per ottenere la conversione dei peccatori per riparare i peccati altrui perché questa dimensione come dire che è grandissima carità è presentissima nella santità cristiana perché noi seguiamo il Signore che ha dato la vita per tutti quindi è chiaro che la prima cosa che vivrò è che il Signore ha la vita tanto me la ridà a me quindi il perdono dei peccati la confessione generale mi rialza mi ricopre di grazie eccetera eccetera ma questo non lo fa perché io me ne resto da solo per conto mio oh che bello ho ricevuto queste grazie come le tengo per me in attesa del paradiso no ma è il cammino della santità che tu poi investi queste cose traffichi i talenti come ci sono il Vangelo e li metti a disposizione del prossimo e li restituisci al Signore moltiplicati quindi le penitenze erano fatte per questo motivo qui nella Divina Volontà è fortissimo il tema della riparazione l'abbiamo già visto prima cioè è fatta però in maniera perfettissima questo non vuol dire che se ma allora se faccio il giro nella Divina Volontà non serve a niente che faccio il digiuno le altre penitenze nein questa è un'altra gretinata questa qui rallegra di piuttosto del fatto che se tu porti nella Divina Volontà un digiuno una penitenza che fai immagina quale portata riparatrice e satisfatoria e impetratoria quell'atto viene ad assumere dinanzi all'altissima noi non ce ne possiamo neanche rendere conto di queste cose no? ecco ultimo brano che leggiamo oggi sì un pochino più lungo ma è sempre breve 22 novembre 1921 continuando il mio solito stato e vegliando quasi tutta la notte il mio pensiero volava spesso al mio prigioniero Gesù e lui facendosi vedere in fitte tenebre tanto che sentivo il suo respiro affannoso il tatto della sua persona ma non lo vedevo allora ho cercato di fondermi nella sua santissima volontà facendo i miei soliti compatimenti e riparazioni interessante eh un raggio di luce più splendente del sole è uscito da dentro il mio interno e rifletteva sul volto di Gesù a quel raggio il suo santissimo volto si è rischiarato e facendosi giorno ci sono dileguate le tenebre ed io ho potuto abbracciarmi le sue ginocche e lui mi ha detto figlia mia gli atti fatti nella mia volontà sono giorni per me e se l'uomo con le sue colpe mi circonda di tenebre questi atti più che raggi solari mi difendono dalle tenebre mi circondano di luce mi danno la mano per farmi conoscere dalle creature chi sono io perciò amo tanto di vivere nel mio volere perché nella mia volontà può darmi tutto e mi difende da tutti ed io mi sento di darle tutto e di racchiudere in lei tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri supponi che il sole avesse ragione le piante fossero ragionevoli e di volontà rifiutassero la luce e il calore del sole né amassero di fecondare e di produrre frutti solo una pianta riceve con una mucca e una mucca la luce del sole vorrebbe dare a sole tutti i frutti che le altre piante non vogliono produrre non sarebbe giusto che il sole ritirando da tutte le altre piante la sua luce piovesse solo su quella pianta tutta la sua luce il suo calore ora ciò che non succede al sole è perché primo di ragione può succedere tra l'anima e me vediamo Gesù in questo brano bellissimo quanto ama le anime che vivono nella vita e quanto felici lo fanno felicissimo allora il contesto no vedete che bello no il pensiero che volava spesso al mio prigioniero Gesù ecco un'altra un'altra spia del fatto che stiamo cominciando a vivere nella divina volontà a che pensiamo noi durante la giornata e soprattutto a chi pensiamo anche questo ragazzi ci sta poco da da raccontarsi le balle e le storie se tu una persona l'ami veramente chissà cosa significa essere innamorato sa cosa significa questa cosa se tu una persona l'ami ma stai sempre a pensare anche quando non ci puoi pensare perché se uno è innamorato è che ne so un chirurgo che sta a fare un'operazione durante l'operazione può mettersi con la testa per aria a pensare all'amorosa deve staccio con la testa col bisturro in mano però sta con la testa nel bisturro in mano ma una parte del suo pensiero quella parte diciamo così semplifichiamola in questo modo che può come dire svincolarsi dall'attenzione che deve porre a quello che sta facendo ma è stata l'amorosa si è innamorato ci sta sempre d'accordo ci pensa e allora noi a chi pensiamo e a che cosa pensiamo perché e di lui sa a chi stava a pensare voleva spesso al prigioniero Gesù voleva spesso al prigioniero Gesù e lui ha gradito questo pensiero perché si faceva vedere in fitte tenebre sentiva il respiro affannoso e il tatto della sua persona e perché si è fatto vedere in fitte tenebre perché voleva ricevere da quella creatura amore consolazione e la luce allora Luisa che ha già capito perché era già pratica adesso che ci inventiamo lo so io mi fondo nella sua santissima volontà e faccio ecco un'altra cosa che si può fare molto buona i miei soldi compatimenti e riparazioni compatimenti allora qui dice hai mai fatto tu un compatimento a Gesù punto interrogativo questo lo sai tu è chiaro che per fare un compatimento a Gesù ci vuole un contesto di preghiera profonda ci vuole un contesto di meditazione sulla passione è chiaro tu ci devi pensare e ciascuno di noi sa se questo lo ha fatto come lo ha fatto cosa gli hai detto a Gesù che gli hai detto che è scoppiato a piangere vedendo Gesù soffrire in quelle pene inaudite che cosa gli dice il tuo cuore guardate che Gesù queste cose le aspetta da noi non vede l'ora di sentire qualcuno che si metta a pensare alla sua passione e tu suo figlio tu sua figlia che pensi dinanzi a quello che senti che gli dici ce l'ha da pensare cercavo di fondermi nella sua antissima volontà facendo i miei soliti compatimenti quindi vuol dire che un compatimento possiamo ritenerlo è un atto di fusione nella divina volontà perché se cerca di fondersi nella divina volontà facendo i soliti compatimenti è chiaro perché se io compatisco quello che è successo con l'umanità di Gesù e lui con un atto chiaramente volontario con un atto di amore affettivo e appunto volontario è chiaro che la sua risposta non potrà altro che essere quella di unirmi a lui è la sua volontà evidente e riparazioni allora sentiamo un po' al termine di questa piccola catechesi mettiti davanti allo specchio e dici ho mai fatto qualche riparazione io a Gesù o quelle almeno quelle più facili quelle che si fanno col pensiero gli offro il suo stesso sangue faccio un giro nella divina volontà faccio come ho fatto prima prendo i suoi pensieri li porto in giro per le creature oppure in modo tale che glieli rioffro poi perché abbia ricambio di riparazione di amore come se tutte le creature l'avessero adorato non l'avessero peccato eccetera eccetera le faccio queste cose le faccio o no vedo fare una cosa brutta nei confronti del Signore dice ah padre ho visto che sono andata a fare comunione con la persona ma io lo so quella è divorziata e risposata e ha parlato pure col padre col padre io ho detto che può fare niente ma quella via è salza per fare comunione lo stesso e tu che fai? dinanzi a un fatto del genere che fai? ripari? fai un gesto di rivelazione ti inventi qualcosa dici che cosa devo fare? mmm ti preoccupare dice eh non so che cosa devo fare ma pensaci un attimo fai un attimo di silenzio imparate ad ascoltare il cuore forse è anche la cosa più semplice forse è anche un atto d'amore dico Gesù questa sta a fare così chiamo con tutto il cuore e unisco questo atto d'amore alla tua volontà perché tu possa trovare la riparazione di questo gesto non ci pensa a quello che sta facendo questa pensa adesso a stato d'amore che ti sto facendo bellissimo ma è il pensiero di farlo quindi i compatimenti e le riparazioni sono atti che ti portano dritto dritto alla fusione con la divina volontà e proprio mentre faceva i suoi soliti compatimenti e riparazioni che è successo? arriva la luce e si dileguono le tenebre da Gesù e Gesù riprende intercetta e risponde dice figlia mia gli atti fatti nella mia volontà sono giorni per me perciò amo tanto chi vive nel mio volere perché nella mia volontà può darmi tutto e mi difende da tutti ed io mi sento di darle tutto e di racchiuderne tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri chi fa queste cose quindi chi veramente mette Gesù al centro della propria vita e ne fa la ragione della sua esistenza da Gesù riceve il ricambio e poi gli fa l'esempio guarda che se perché? perché tutti gli altri se lo filano proprio non se lo filano proprio la messa di oggi chi c'è stato? forse come metterò online quel pensierino di Omedia Feriale che ho fatto oggi oggi c'era la parabola degli invitati che non accettano oh e Gesù mandisce la cosa più bella dell'universo invita tutti e chi c'ha da fare che deve andare a lavorare chi c'ha il campo nuovo chi c'ha il bue chi c'ha la moglie chi c'ha i figli nessuno che c'ha un minimo di tempo da dare al nostro signore ma questa è una cosa proprio brutta e allora nella parabola di oggi se non lo vogliono va a trovare il primo conto di mestrati e qualcuno venisse perché io sti bene a qualcuno li devo dare e poi però dice attenzione nessuno di quelli che hanno rifiutato il mio invito mangerà quello che io ho preparato attenzione ogni tanto Gesù ecco ci dà una bella lisciata sulle conseguenze della nostra stupidità e dei nostri atti però vero anche il contrario che invece chi accoglie gli inviti chi risponde a Gesù chi gli dà quello che vuole ah non soltanto Gesù non si lascia superare in generosità lo strapaga gli dà tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri e che non dà gli altri perché non gli vuole dare perché gli altri non li dicevano li respingono li rifiutano c'hai voglia tu di ritrovarti con una montagna di beni divini che non sai più dove metterli come si dice grazia su grazia dice San Giovanni bene cominci a fare così vedrai quanti ti arrivano è impossibile che non arrivino perché Gesù queste cose le ha dette se non ti arrivano tutte quante queste cose sicuramente non stai vivendo in questo mondo cento per cento se non ti arriverebbero e non ti devi stupire di nulla nemmeno a vivere di nulla bene ragazzi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per oggi basta così penso che sia bene anche se fare una piccola postilla ecco per chiederci davvero alcune domande che ci siamo che sono sorte quanti compatimenti abbiamo fatto a Gesù quante riparazioni gli abbiamo offerto nel pensiero o anche nelle opere c'è avuto il coraggio di fare qualche digiuno qualche penitenza riparatoria per qualche cosa di brutto che hai visto fare a Gesù c'è avuto non soltanto questo coraggio questo amore e che è rimasto tra te e lui non lo deve sapere nessuno manco l'aria che respiri lo sapete tu e lui e basta state tranquilli che se fai queste cose vedrai quante grazie e benedizioni arrivano su tutti scenderà benedizioni di Dio Onipotente e non è di una volontà padre figlio e spirito santo alla prossima ave maria grazie a tutti grazie a tutti